musica 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 come si fa Fede? dobbiamo fare la puntata guarda la faccio da solo? allora cominciamo bene ben ritrovati quest'anno una novità faccio tutto da solo allora rugby Iesi se vuoi senti il senso rugby Iesi in vacanza perciò ancora fino a febbraio non giocano Iesi nel calcio femminile idem nasce l'uomo non ce la fa Iesi nel cinese 2 a 1 strappini Mbaie segnato Mbaie alla fine 2 a 1 cosa vittoria questa? niente Gabrielloni era già adese 1 a 1 contro il Termoli ottimo pareggio strana anche il 2014 si è aperto con un gol di Gabrielloni va beh passando in eccellenza la Piaggio purtroppo ha perso la seconda sconfitta consecutiva Montegiorgio 3 a 1 e ha segnato Ortrudo assieme in promozione novità cingolana Piro no non ha vinto ha pareggio anche tra Marino e Marzocca 1 a 1 due buone squadre un buon punto per 1 l'Avadese ha battuto la Bebederese alla fine con gol di Cottini e Castelfioretti passatempo 1 a 3 dov'è che ha segnato? Principi va bene prima categoria Real Camerarese Monsano 1 a 1 Bruciatari su Rigore tanto sei l'ospite perciò è normale che segna Le Torri Camerano 2 a 2 chi vorrebbe segnato? Bucci forse Castelfioretti bisogna che lo evitiamo perché sennò segna sempre Bucci vabbè e niente Collemarino Montserrat 2 a 1 Collemarino prima in classifica ha battuto Montserrat 2 a 1 alla fine Vigo Castelfiardo Palesina City ah ecco perché non parli Vigo Castelfiardo Palesina City 2 a 1 vabbè topa alla fine però è segnato però 2 a 1 ti rifarai saldo no? vabbè non fa niente lo stanno in seconda Falcone Resi Pianello 3 a 0 Aglio Chiaravalle Promontana 1 a 1 ha segnato Marboni del Chiaravalle Borgovinano San Paolo 0 a 0 questa è una bella partita fra Borgovinano San Paolo 0 a 0 Borchetto Spese 0 a 1 Maiolatesi ha spesso andato a vincere a Borchetto Labro Staffolo 0 a 0 Castelfiardo ho visto la strada 2 a 1 mancinate i braconi io ho finito te hai raffetto lo scioglio le solle le solle sentita le solle ha vincere le solle il vincere la nella ن